c'è un culo vieni da me c'è due scendini scendini no? piano 3-4-5 qui da me ti dico qui da me no, devo prendercela perché ne fosti quante no, non va bene mandi più che un attimo dei comandi allora non troppo esce vogliamo andare un attimo mi sto mirando dai Luca che palle quanto ci moravo? tre secondi ti ho chiesto mi manca l'altro ecco fatto ci riusciano c'è stanno sopra il grigio stanno qua le c quanto malgrado le c stanno fai tanto vieni vittato 1-89 vittato 1-89 estrai 41 41 un altro un altro che dietro 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 eh beh però come fuori è la mia da me scarci è lanciata non c'ho colpi cecchino usciano 1 e 1 1 e 1 non so quanto può essere però a poter ah c'è l'altro dimmelo c'è un falo non morirà non mi trugano un pochino io e te ti valuta l'altro perché è salutato quindi ti valutami mi servi colpi cecchino eh un attimo ci correo ma dopo aiuto fa 15 bene grazie non ti metti il mezzo non ti metti il mezzo tanto c'è un falo non te lo metti il mezzo vabbè metti il falo qui aspetta 3 secondi aspetta 3 secondi a posto misurano i colpi e fine poi ce te ne vengono Dove sta allontanato l'altro? Qua sotto Eh Su me non c'ho materiale Dai col piccetto No no no, ok, grazie Il tono li uso C'ho nemmeno posso costruire un piano io per materiale Eh, non ho capito Non posso nemmeno costruire una scala Dovevi andare a scendere qualcosa Non mi ricarica l'altro Non mi ricarica l'altro Qua io l'altro Stai a vedere che scendendo i venti La dove eravamo prima l'ho lasciata un po' e qua da noi c'è un'altra E anche qua c'è un'altra Eccoci lì in posto L'interparazione mio ci sono Shildini E... 10 band E Shildone Ecco Un Shildone qua Qui c'è uno Shildone E poi le band stanno lì Una qua sotto la scala Una qua sotto la scala Una qua sotto la scala Qua sotto E l'altro Le bandi E l'altro Le bandi Ho lì sette people Io l'ho con rosso Shildone Mi pusci nè Arraigo 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 Un Shildone Un Shildone Un Shildone Un Shildone Col più un po' continui E i medi Ma non erano due Infatti Io lo sono ritrovato in bocca Io direi da una luta rosso Però non ho messo No non ho messo Eh io direi da una luta Eh io direi da un materiale Oppure da una insieme Se vai io c'ho 1.700 1.700 1.700 Non vuole un po' Sì ma prima del fight Io c'avevo 600 di legno E me l'ero farmati Eh E poi io c'avevo 600 di legno Poi se li farmi ci arrivi Poi vieni qui Quindi non mi dai Certo che sei lì qua Perchè mi hai dato il legno? Ah ok no Ma già non avevo visto il legno Va bene Vieni qui Vai vai Andavo qui sopra Lui non sta dietro sopra Calibro sopra Calibro sopra Oh bella Calibro lì eh Sì sì Bene perchè su un nab Però la doppietta non è proprio un colpo buono Ah Va bene Ah non moria Tu c'è un'altra jump? No Lo siete troppo C'è una borla No 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 non si Te si sente un botto le ventole No poi se la vincemo questa non la posso mettere Eh La fastidio è un botto nel video eh Ma te lo tagli il pezzo Che vuol dire? Te si sente comunque Ma lontani Ma sai perchè a te non te si sente? Perchè te ti ti alco distante Perchè te ti alco distante No perchè te ti alco distante Il microfono vuoi essere un nome si sente? Ce l'ho a un quarto il volume ce l'ho a 75 Perchè ci ho ancora avanti Prope dove c'è scritto Noi dopo ti mi ha lo dice troppo basso Qui avanti ho in un sacco Dai dopo me mi dice troppo basso Che ti posso fare Nero ne qui io sono meno di buono che non c'è è eliminato c'è un altro cliente, c'è gente davanti e te l'ulta del tutto mi raccomando perchè mi chiedevi sempre l'ulta tutto faccio una caraffa, comunque c'è l'ulto qua sotto posso qua mini shield? si c'è un meriti però lascio poi c'è anche una scendone, me lo faccio ce l'hai raggi? ah no, non mi serve non mi ricordo grande eh sì, lo faccio un scendone lo mucchiate io lì lì, prendiamo sta giampa perchè non si ricarica l'arma? non mi hanno messo i scendini lo mucchiate dove le fanno robare? ma l'hanno levato le braccia perchè è il glitch della cosa? no 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 andiamo a vedere dove c'è qua 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 davanti c'è 95 sono io? non l'ho visti? e hanno spaccato l'arma ma ecco io quanto non gli ho sparando dai non l'ho visto non l'ho visto ma dietro non l'ho visto anche dall'altra parte attento dalla grande puoi portare niente andiamo sul monte andiamo sul monte andiamo sul monte no io lo so lo so puoi sparare questo qua sotto droghi eeeh bravissimo aaaaaaa non lo so io team da me team da me piuco siamo alti aaaah è tutto scurante cazzo che farmi è chiuso e dopo ora ma modifica i mondi sopra no? oh io non posso c'è un altro team poi eliminato a terra poi c'è un medikit oh ecco la forca cosa non è tanto forte è buono è tantissimo aaaah quattro sfidone bravo cardio grazie grazie c'è uno 10 arrivano arrivano non arrivano più ah eccoli si parli però oh c'è un lancia granate io vado ok c'è un altro team c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno lo fucio che lui è vero oh lo è stati tutti c'è uno c'è uno c'è uno eliminati e' due contro uno come è come è non no 9 kill per me Sì, GG La misera che è pro con lancia granate 6 assist